Signore e signori, buonasera, ben ritrovati a casa mia, ben ritrovati come sempre qua nell'usuale, solito disordine della mia libreria. Allora, torniamo a parlare di libri, ancora, tanto per cambiare, uno dei miei cari vecchi pocket longanesi. Io sono Adolf Eichmann di Henry Ludwig. Come una paziente e spietata rete di agenti segreti si chiuse attorno al collo della belva umana. La storia della cattura di Adolf Eichmann, la storia della cattura del burocrate dello sterminio, la storia della cattura dell'architetto della Shoah, la cattura di uno degli ingranaggi principali di quello spaventoso meccanismo di morte e distruzione che fu l'Olocausto. Eichmann, sapete tutti chi è, il pianificatore dei trasporti e dei rastrellamenti degli ebrei di tutta Europa e del loro sterminio. questa è la storia di come Israele gli mise le mani sopra, grazie alla paziente, alla straordinaria, alla raffinata capacità di indagine di quel grand'uomo, di quello straordinario personaggio che fu Simon Wiesenthal, il cacciatore di nazisti. L'uomo che nel corso degli anni, dopo avere perso praticamente quasi tutta la sua famiglia nei campi di sterminio nazisti, dedicò tutta la sua vita alla caccia ai nazisti superstiti. Eichmann fu indubbiamente il suo successo più grande. Ahimè non riuscì a mettere le mani addosso a Mengele, che era probabilmente più furbo e più protetto rispetto ad Adolf Eichmann. Comunque sia, questo libro, strutturato quasi come un giallo, spiega la fuga, la latitanza, la cattura, l'arrivo di Eichmann in Israele, dove fu processato e condannato a morte. E dall'inacque anche la famosa questione della banalità del male. Eichmann, un ometto da poco brutto, insignificante, colpevole della morte, dello sterminio di milioni di persone, colpevoli soltanto di appartenere al popolo ebraico. Che vedevo di? La banalità del male. Anna Arendt aveva ragione, la totale, assoluta e volgare banalità del male. Eichmann, ve l'ho detto, qui ci viene narrata la sua fuga, la sua latitanza, la sua cattura, il suo arrivo in Israele e la sua condanna a morte. Un libro che si legge veramente quasi come un giallo, una tensione narrativa veramente avvincente. L'inchiesta, cioè la capacità di indagine di Wiesenthal, che veramente poco hanno da invidiare a quella dei grandi detective della letteratura, insomma del giallo, del misteri. Solo che Wiesenthal era veramente un grande investigatore. La sua rete, la sua capacità di saper tessere attorno al suo bersaglio una ragnatela di controllo che poi dopo portò all'arresto di Eichmann. Un libro da recuperare, un libro da conoscere, un libro che ci racconta la caccia a una delle peggiori belve della storia. Dicevo prima, Wiesenthal, la cattura di Eichmann fu un trionfo per Wiesenthal, ma ahimè fu anche, come dire, uno degli ultimi. il pesce grosso, Mengele, la preda più ambita sia da Wiesenthal che da Israele, gli sfuggì sempre e morì, sappiamo Mengele che morì, annegato in spiaggia nel 1979. Ahimè, non fu possibile consegnarlo alla giustizia degli uomini. C'è una giustizia divina? Non lo so. Sapete bene che non sono religioso, sapete bene che, l'ho detto più volte, che sono un materialista che non credo in livelli superiori. C'è una giustizia divina? La speranza è l'ultimo a morire. Lo scopriremo soltanto quando passeremo dall'altra parte e io spero il più tardi possibile. Va bene, va bene, non fatemi scherzare su queste cose che non è simpatico. Dicevo, io sono Adolf Eichmann, la storia della cattura del mostro Eichmann, del banale mostro Eichmann. Un uomo come tanti che si rese responsabile del più terrificante massacro della storia dell'umanità. Tutto qui. Quindi cercatelo, trovatelo, procuratevelo, leggetevelo e fatemi sapere, come sempre, che cosa ne pensate. Io sono Adolf Eichmann, di Henry Ludwig. Un grande libro, un libro avvincente da leggere, che poco ha veramente da invidiare ai grandi gialli della letteratura mondiale. Solo che qui non c'è finzione, è realtà. Tutto qua. La cattura di Adolf Eichmann. Quindi vi ringrazio, come sempre, per l'attenzione e arrivederci nuovamente al mio prossimo video. Buonasera.